e preme, spiega il da farsi al suo amico Lothar. Amarildo cerca il dialogo e Maradona? Che fa? Veste in rosso-nero, Berlusconi esulta, Ferlaino non ci sta. Agnelli e Pellegrini cercano un'intesa strategica. Ma perché agitarsi? Ovunque si balla, perché non farlo anche negli stadi? Musica maestro, danze brasiliane, tedesche e casarecce. Chi soffre di più, il clima agonistico, i giocatori o il presidente? E chi ha detto che i portieri rimangono fermi? Tanto è tutta una questione di fortuna, basta giocare un po' con la scaramanzia, un pizzico di sale dietro la rete e qualche birchinata in campo. Si danza, si balla, ma guardate che fine ha fatto una sudatissima Coppa dei Campioni. Questa porta dell'hockey su ghiaccio è fatta proprio su misure per il portiere provare per credere. E chi ha detto che i cavalli sono poco intelligenti? Comunque, occhio a non perdere una lenta contatto. La pallacanestro può trasformarsi in una caccia al tesoro. E i più ricchi del tennis vincono lo stress a modo loro. Correre a qualunque età, ma è bene non distrarsi. Al giro d'Italia ogni disattenzione è fatale. Il click di una macchina fotografica fissa il relax di Gregari e Campionissimi. Abbiamo scherzato, perlomeno ci abbiamo provato. Auguri anche a questo funambolo che sogna il suo contratto. Niente miliardi, soltanto un bell'osso d'asolo.